che sta anche per terminare, questo è il mio risotto preferito vedrai come sarai bella l'appuntamento di questa sera no, non ti preoccupare, non mi sono offesa che all'inizio avrei detto, stai tranquilla adesso qui, ultraleggero, con un percento di acido ialuronico, avendo tutta la pelle come la mia questo e ha tantissimo vado ad aggiustare con la spugnetta si ok up, 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 up zi 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 up, 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 up ciao tesoro mio ciao cucciola ben trovata, come stai? tutto bene? si, vedo che sei uno splendore cosa ti porta qui? ti trovo in formissima meglio di me vorresti un po' di make up? ok si, si, tesoro mio, non ti preoccupare certamente, mi posso dedicare a te? no, non ho nulla da fare anzi direi proprio che mi stavo un po' annoiando perché stavo mettendo a posto un po' di cose mi stavo annoiando non sapevo cosa fare adesso però che sei arrivata tu posso passare del tempo in compagnia insieme a te e perché no darti una mano a truccarti, ok? posso metterti un po' di questo siero sul viso? guarda che goccia, si guarda che goccia, si non ti preoccupare me la vedo io ti piace il mio make up? ho appena fatto allora stendiamo un po' qui beh, cosa hai fatto nelle ultime settimane? racconta ah, sei appena tornata da un viaggio ma ecco perché sei così radiosa e già, e già, e già hai fatto bene hai fatto molto bene si, si, si direi che fa proprio bene e già ok mettiamo anche un po' di crema contorno gli occhi idropo di Wicon ecco ok 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 bel viso idratato comunque sento la pelle morbidissima al tatto dipende dal tempo che ho a volte mi trucco meglio a volte un po' più leggero insomma dipende tanto dal tempo che ho senti ti vado a mettere prima l'ombretto casomai cade un po' di polvere sul viso poi dopo vado a perfezionare con la BB cream oppure con un po' di fondotinta però questo siero che è davvero ottimo non appesantisce io lo uso anche d'inverno d'estate lo trovo top questo periodo praticamente secondo me è il miglior siccome tra poco andrò a spolmare anche il fondotinta non vuole sporcare i capelli voglio che tu metti questo cerchietto se le orecchie da gatto diventano argento o azzurro vieni qua vieni qua che ti aiuta a metterlo ok 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 apposta allora adesso che abbiamo portato tutti i capelli indietro mi devi dire come vuoi l'ombretto se non vuoi come ce l'ho io oppure se vuoi monocolore quale preferisci vuoi solo l'ombretto nero no non è forte vedi ti ho messo un po' io giusto così per sfumare sì è molto chiaro solo il nero l'eyeliner lo gradisci vedo che ti fidi di me visto che sei tornata di nuovo e mi fa sempre molto piacere allora chiudi gli occhi dimmi un po' questa sera c'è una serata speciale non volevo chiedere ma sbaglio o ti vedo abbastanza elettrizzato gli occhi ti sorridono hai un appuntamento ed è un appuntamento calante è un appuntamento calante ma dai è la prima volta che ti vedi con questo re e non mi stavi dicendo niente guarda che adesso non ti trucco più ah si scheramantica ah praticamente sono l'unica adesso che lo sa no addirittura avete già rimangato questo appuntamento più volte come mai ah per il maltempo tu perché sei stata in viaggio ho capito beh dai stasera andrà bene si 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 non ho dubbi ok sto ferma anche un po' di qui passiamo sull'altro occhio sei bellissima sei bellissima comunque lasciatelo dire avevo detto bene all'inizio che ti trovavo radiosa molto radiosa molto radiosa si si una bellezza particolare divina adesso sono cominciate le prime giornate di caldo visto anche arrivate all'allergia per non farci mancare nulla praticamente già è vero lo trovo anch'io assurdo siamo passati sul freddo al caldo ok basta così voglio solo illuminarti un po' l'angolo interno ok ti ho illuminato questa zona si si esattamente come me a posto adesso passiamo al mascara dopo andiamo a mettere il correttore sì è vero non hai molte occhiaie sei proprio riposata qui io invece ho il problema a posto sia che dormi poco sia che dorma poco sia che io dormo tanto ho proprio questa cosa delle occhiaie eh sì da quando ero piccola allora questo non mi piace prendiamo questo questo è anche nuovo tra l'altro è vero up..up..up..up.. ok up..up..up..up..up.. up.. Instead non accident.. e anche il mascara è stato messo adesso passiamo al correttore ok perfetto 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 vado ad aggiustare con la spugnetta sì io mi aiuto sempre un po' con la spugnetta e poi nude adesso qui ultraleggero con un percento di acido ialuronico avendo tu la pelle come la mia questo è adattissimo un po' con la spugnetta un po' con la spugnetta è questo te lo stendo con le mani ok? no no no, con la spagnetta non mi sembra il caso posso metterti anche poi il rossetto? ok? preferisci solo il lucido? no io ti voglio mettere il contorno labbra la matita quando torno là proprio ti voglio mettere il rossetto e il lucido proprio come ho fatto io si si naturalmente poi anche un po' di blush ok a posto la dita quando torno là proprio aiuta più di uno e il rossetto io da beauty che sta anche per terminare questo mio rossetto vedrai come sarai bella l'appuntamento di questa sera no non ti preoccupare non mi sono offesa che all'inizio avrai detto ma non ti preoccupare stai tranquilli vedrai vedrai ok ed infine per la linea UWT passiamo a questo proprio shine ultrashine questo bene 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 poi 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 passiamo no il blush non è qui il blush è qui ok bene radiosa ed infine un po' di illuminante vorrei prendere il pennello schiacciato ma ce l'ho di la prendiamo questo un po' di illuminante qua mi sono servita proprio della punta di questo pennello vedi? e bisogna essere sempre bisogna essere sempre attrezzati no chiaramente no non vado non vado a macchiarlo tutto anche sul naso una punta sul naso bene bene tesoro io ho finito tesoro io ho finito adesso adesso possiamo togliere il cerchietto ok ok andiamo a sistemare i capelli ok bene spero spero tu sia rimasta contenta ti piace il risultato il risultato perfetto secondo me beh beh allora ti aspetto di nuovo per un nuovo trucco ciao tesoro ciao a presto a presto